Quando mio figlio torna a casa con un brutto voto, io non lo sgrido perché non va sgridato, non vanno sgridati, anzi lo aiuto a trovare la sua strada per un miglioramento. Mi ha chiamato la scuola l'altro giorno, ha dato un brutto pugno in faccia a un suo compagno di classe, ma non l'ho sgridato perché non vanno sgridati, anzi quando poi mi hanno chiamato i genitori dell'altro bambino, gli ho detto che è solamente un suo modo di esprimere le emozioni, tutto lì. Poi è vero che con una pannonata l'altro giorno mi ha spaccato il vetro della macchina, mi sono trovato inciso sul cofano, l'ha scritta suca, grosso così, però non l'ho sgridato. Quello che non sgrida mai il figlio è una persona piacevole come un lockdown in casa con la suocera. Non restare indifferente, manda anche tu un sms con scritto hai fatto bene a non sgridarlo, suca l'ho scritto io, al 48422, aiuta il povero Salvatore. Grazie. 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 Grazie.